Eccomi qua, sono Francesca Vitagliani, saluto tutti e tutti gli amici che mi stanno guardando. Siamo qui a Sanremo, si sta molto bene, siamo emozionati perché stasera c'è la prima serata. Facciamo notare che siamo qui per l'Rsb. Veramente questa radio c'è da tanti anni qui, ma quest'anno ci sono anch'io.